salve amici della natura e bellezza questo video raccoglie in modo interattivo tutti i tutorial delle erbe selvatiche commestibili che ho finora realizzato man mano che realizzerò altri video inserirò al suo interno i link interattivi in maniera che con un semplice clic andrete direttamente alle visione della pianta di vostro interesse vi consiglio quindi di tanto in tanto di aprire questo video e vedere se ci sono novità rammento infine che tutti i video mostrano in modo chiaro come riconoscere la pianta riportano eventuali attenzioni nell'uso e consumo e danno un'indicazione delle proprietà e dell'uso in cucina buona visione a tutti ciao 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 ciao